L'attesa è finita! È arrivata a regali dei desideri 2.0, la raccolta Punti Pampers. Puoi scegliere tra più di 20 fantastici premi per realizzare il suo sogno. Cosa aspetti? Acquista i prodotti Pampers e raccogli i codici. Se partecipi su Pampers.it avrai subito due codici in omaggio. Clicca qui e comincia subito la raccolta.